musica ragazzi video importantissimo, mi raccomando seguitelo fino alla fine benvenuti al mio quinto video tutorial in cui vi mostrerò come far cantare addirittura il vostro mecca allora aprite il vostro terminale e inserite il codice 6 spazio trattino b ecco su internet molti già conoscevano la voce sellos ma ce ne esistono molte altre che io ho già qui segnate nelle note e che vi metterò anche in descrizione ecco adesso apriamo la voce sellos premiamo invio e dopo inseriamo il testo che vogliamo far cantare al mecca io il testo che ho scelto è questo che dopo come esempio mi metterò anche in descrizione al video e adesso proviamo ecco questa è la voce più famosa che forse anche tutti conosceranno ma comunque ce ne esistono delle altre se vogliamo riprovare dobbiamo chiudere prima questa pagina di terminale e poi riaprirla allora io adesso provo, non so, il bells inseriamo il testo ecco forse questa non era delle migliori comunque adesso mi sono appena ricordato di una abbastanza divertente che è appunto quella good ecco inseriamo il testo ecco adesso in questo mio video non vi saluterò come al solito ma appunto visto che ci troviamo nel contesto userò appunto la voce del mac che sarà un saluto a tutti da pazzo e mi raccomando iscrivetevi ecco inseriamo il testo ecco inseriamo il testo